ho avuto due infarti ha spiegato massimo lopez in una recente intervista al corriere il primo è di dominio pubblico avvenuto nel 2017 mentre recitava teatro il secondo invece si è verificato pochi mesi fa e ne ha parlato per la prima volta ora spiegando di aver rischiato la vita peraltro il secondo è stato ancora più drammatico perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso ho rischiato seriamente